Grazie a tutti. Siete dei sindaci del territorio terramano un po' per fare il punto perché comunque si sta vivendo un momento di difficoltà però voi comuni state cercando di rilanciare questi territori che purtroppo negli anni hanno sofferto molto perché anche il suo comune fa parte del cratere del doppio sisma, danni subiti nel 2009 e altri danni con il cratere del 2016. Sì, diciamo che è un periodo dove abbiamo attraversato dei brutti momenti però è pur vero che adesso è un periodo storico dove bisogna approfittare e bisogna essere pronti. Noi come comune lo siamo stati e soprattutto adesso cominciamo a vedere risultati di anni di impegno dove abbiamo fondamentalmente cercato di portare a casa il risultato. Oggi si cominciano a vedere i risultati dei primi cantieri e quindi ci aspettiamo delle belle cose nei prossimi anni. Sindaco, tra questi risultati ovviamente c'è la questione di un progetto molto importante che riguarda la riqualificazione di punti cruciali della città di Colledaro. Sì, con i fondi PNRR stiamo cercando di lasciare un segno, di riaggiornare tutto quello che è anche l'apparato urbanistico, la costruzione urbanistica del nostro comune, interventi che riguardano tutte e tre le frazioni principali, quindi quelle di Villapetto, Colledaro e Dornano, che si abbina ad ulteriori fondi che abbiamo preso, il PNRR e per i quali avvieremo la progettazione e vanno a completare anche ulteriori somme che a breve arriveranno sempre per interventi di rigenerazione urbana nei borghi danneggiati al sisma 2009. È un territorio, come stavo dicendo, che ha sofferto moltissimo, però adesso comunque si sta riprendendo da queste ferite, però la cosa che molte volte preoccupa è il fatto che siano passati così tanti anni, perché stiamo parlando di un terremoto del 2009 e ancora ci sono problemi. Sì, la cosa diciamo più importante... Cioè non è ovviamente questa una problematica che riguarda solamente il suo comune, ma è un qualcosa di molto più ampio. Gli anni effettivamente passano, basti pensare che io sono ormai sindaco da 10 anni, sembrava ieri il giorno dell'insegnamento. Gli anni passano e corrono veloci. La burocrazia italiana sicuramente non aiuta. Se poi ci mettiamo un altro terremoto, una pandemia mondiale, non troviamo niente che ci possa un attimino aiutare a velocizzare. Purtroppo la ricostruzione è un processo lento, non è un processo che di per sé è veloce, perché c'è prima tutta la fase di ricostruzione e poi c'è tutta la fase di sviluppo. Quindi quello che dobbiamo fare, secondo me, noi amministratori che abbiamo dovuto fare, dobbiamo continuare a fare, è invogliare la gente a rimanere, quindi cercando di creare più opportunità possibili e cercando di dare alla popolazione più servizi possibili. State anche lavorando a stretto contatto con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli? Sì, devo dire che il commissario Guido Castelli conosce bene come si amministra una città perché è stato sindaco, quindi posso dire che credo che finalmente abbiamo trovato un commissario che, ripeto, conosce la materia perché è stato anche assessore regionale delegato alla ricostruzione, quindi sa dove andare. Devo dire che anche ben cogliuato dal direttore Rivera e comunque a discapito di quello che si possa dire dei campanilismi, lui è marchigiano, Abruzzo verrà penalizzato, devo dire che i risultati li portiamo a casa. Sindaco, io prima di continuare un po' la sua chiacchierata per parlare del suo comune, devo farle ovviamente questa domanda, visto le criticità che ci sono state per la questione della chiusura del Traforo del Gran Sasso. Chiusura, questi rallentamenti, questo semaforo hanno creato tantissimi disagi, poi alla fine si è deciso di riaprire perché le analisi che stavano facendo non andavano bene, diciamo così, poi ovviamente l'argomento è molto più complesso. Voi che state proprio a ridosso avete subito ancora di più il problema. Questa è una cosa che ho già detto anche di un altro tuo collega, se posso darti per tu. La cosa che a me un pochino dispiace è che comunque nel tavolo tecnico il comune di Colledara, ma come credo che ci debbano essere quasi tutti i comuni della Valada Siciliana, devono partecipare, perché ovviamente è pur vero che il traforo e i laboratori si trovano all'interno del comune di Isola del Gran Sasso, ma noi siamo i comuni che seguono a valle isole, quindi tutto quello che si ripercuote nel traforo poi ovviamente di conseguenza arriva sui nostri territori, cioè la prima uscita dopo il traforo è la Colledara San Gabriele, quindi quando ci sono deviazioni, tutti i mezzi pesanti, ovviamente poi che succede si riversano sul nostro territorio. Poi c'è stata la tempesta perfetta, perché non c'erano strade alternative quasi, perché la famosa strada delle Capannelle era interessata da oltre dieci cantieri. La situazione dell'autostrada a 14, idem, quindi conette la mano abbiamo vissuto veramente la tempesta perfetta. Negli ultimi dieci anni in provincia di Teramo non siamo molto fortunati. Quello che vorrei ribadire è sempre questo, nel senso benvenga tutto quello che si sta facendo e si vuole fare, quando soprattutto si parla di sicurezza poi. Dobbiamo essere anche onesti con noi stessi, noi abbiamo comunque una criticità, cioè noi abbiamo un acquifero attraversato da un'autostrada e c'è un laboratorio di fisica nucleare che penso che ci renda l'unico caso al mondo. Fino ad oggi è andato sempre tutto bene, però non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e sperare che non succeda mai nulla. Ovviamente spero che questo ci possa servire da lezione per capire nel futuro prossimo come bisogna organizzare la cosa, che non sarà comunque mai semplice, perché parliamo comunque di acqua che è una cosa molto delicata, però sicuramente qualcosa dobbiamo pur fare, non possiamo ripeto, la cosa più brutta che può fare soprattutto un'amministrazione è non decidere. Quindi lì una decisione va presa, va trovato il modo, va pensato a cosa si vuole fare, però una decisione va assolutamente presa. Assolutamente Sindaco, grazie mille per aver fatto questa parentesi, però era anche importante un po' fare il punto su questa tematica. Continua a parlare degli approfondimenti, a approfondire un po' la questione all'interno del suo comune, c'è la questione scuola, che comunque stiamo per aprire la struttura nuova. Sì. Ci siamo quasi. Siamo quasi giunti al termine, dobbiamo fare le opere esterne, fare i vari allacci, siamo leggermente in ritardo perché volevamo riaprire a settembre, però credo che con un po' di buona volontà dovremmo avere una scuola nuova per i ragazzi delle medie nei primi di gennaio. Credo che anche quello possa considerarsi uno stimolo, soprattutto per i nostri cittadini, per far vedere che l'amministrazione c'è, è un'amministrazione che fa e quindi, ripeto, è sempre un tassello che cerca e che va nella direzione di continuare a far rimanere le persone nei nostri territori, perché comunque è un tema, quindi non possiamo anche lì far finta che non ci sia questa problematica. Verrà intitolato a qualche personaggio del suo comune? Lo stiamo già ragionando perché sì. Sicuramente, perché comunque sarà un luogo cruciale per la vostra comunità. Parliamo di turismo, ovviamente Colledare è anche famosa per la porchetta, comunque un piatto prelibato del nostro territorio, tante le persone che fanno parte di questa scuola, possiamo dire, dei porchettari, così si chiamano, comunque un contesto molto importante perché porta economia, però comunque porta anche turisti da fuori. Sì, ecco, abbinamento del food e del turismo, ovviamente che non è l'unica cosa, perché poi per portare il turismo devi essere anche capace di ricevere i turisti. Quello che, diciamo, sto notando soprattutto negli ultimi anni, che gli investimenti sul turismo, quantomeno sul comune di Colledara, cominciano ad avere una certa rilevanza. Facendo un conto molto veloce, oggi contiamo quasi otto strutture dove si può andare a dormire e a Colledara, che credo che siano dei numeri importanti, sicuramente non saranno dei numeri fantasmagorici, soprattutto rispetto alla costa, però è un segnale, quindi è una tendenza. Quindi si comincia a capire che col turismo ci si può anche vivere, cosa che forse non ci si è mai creduto. Ovviamente abbiamo il vantaggio di avere San Gabriele, che è anche un altro tipo di turismo, non ci dimentichiamo di castelli, quindi da noi il turismo si può fare, dobbiamo capire anche con gli operatori, perché il turismo lo fa sì, diciamo, lo organizza o lo pensa la politica, però poi devono essere sempre gli operatori che si propongono. Da noi, ripeto, ci sono attività, attività che ampliano. Attività storiche, perché comunque anche quello che dicevamo prima sono veramente attività che negli anni poi si rinnovano anche con le nuove generazioni, perché anche questo è importante poi. Ma anche lì, ripeto, noi come amministrazione ci siamo sempre, forse siamo stati gli unici a puntarci realmente al netto del discorso della Sagra, perché ok, la Sagra ha quel suo richiamo, però noi siamo stati un'amministrazione che l'ha voluto portare la porchetta di Colleara fuori dai confini abruzzesi. Sì, mi ricordo che c'era un imprenditore a Torino. Quest'anno saremo nuovamente per l'ennesimo anno all'Artigiano in Fiera dal 30 novembre all'8 dicembre a Milano, una fiera che fa 3 milioni di visitatori e dove comunque ci cominciano ad essere i clienti fissi che vengono a comprare la porchetta di Colleara. Questo comunque è un'importante vetrina. Le comunità interne hanno vissuto negli ultimi anni una problematica riscontrata un po' da tutte le parti, che è quello dello spopolamento. Nel suo comune che situazione troviamo? No, forse. La regione lo ha anche certificato con i fondi che dà per i comuni dove c'è più spopolamento. Noi siamo uno dei propri comuni che non riceve questi fondi, perché abbiamo sì un caro demografico, ma che è in linea con quelli che sono i dati nazionali. Siamo più avvantaggiati rispetto ad altri comuni. Cioè noi come Isola abbiamo l'ingresso all'autostrada che ci facilita un attimino l'andare sia all'Aquila che l'andare a Terra. E questo mi ricollega sempre al discorso dei servizi, perché se ci sono i servizi, soprattutto i giovani, oggi rimangono. Se tu togli anche i servizi, ovviamente il giovane è costretto ad andare a spostarsi. Quindi noi come Colledara, ripeto, questo forse è uno dei vantaggi o di quello che ci caratterizza meglio rispetto ad altre comunità locali. E questo è un po' molto importante. Il lavoro in sinergia con gli altri sindaci, che momento sta vivendo? Devo dire che noi siamo nella Valle... Io ragiono sempre per Valle Siciliana, poi c'è il ragionamento un po' più esteso del cratere. Come Valle Siciliana non abbiamo avuto mai, fortunatamente ormai da oltre dieci anni, problemi di nessun tipo. Cioè si cerca sempre di raggiungere un obiettivo, nonostante ci possano essere anche vedute politiche completamente differenti. Però penso che abbiamo fatto quel piccolo step in avanti per capire che spesso conviene più riportare a casa il risultato che non rimanere fermi sulle proprie posizioni. Sindaco, il mese di ottobre è terminato? State già ragionando per gli eventi per il periodo di Natale? Sì, sicuramente adesso c'è il piccolo intermezzo di San Martino. Vorremmo fare qualcosa per Natale, anche se con le Dara è una carenza, che probabilmente con le Dara è gli spazi al chiuso di dimensioni importanti. Ma anche lì mi riallaccio sempre con il Sisma 2016, grazie a dei contributi per circa 3 milioni e 2, stiamo ragionando anche sulla creazione di nuove strutture impiantistiche sportive, con annesse sale dove poter organizzare eventi al chiuso per i periodi un po' più freddi. Questo quanto tempo ci vorrà per definire? Siamo in fase di progettazione, quindi spero di essere qui. Ma già avete individuato comunque l'area? Sì, sì, sì. Spero di essere qui il prossimo anno a illustrarvi i lavori. Sì, ma sicuramente noi saremo come sempre porte aperte e braccia aperte da parte della redazione comunque per raccontare le storie del territorio. Il sindaco la ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è finito, però sicuramente ci rivedremo anche per capire un po' quale sarà la vostra organizzazione visto gli eventi di Natale che poi ci saranno sicuramente e faranno la compagnia a tutti i residenti e non solo. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille al sindaco Manuele Tiberi, il sindaco di Colledare. Adesso ci guardiamo insieme all'approfondimento curato dall'amico Raffaele Gianzante.